Non c'ho io credere, son troppo forte! Fatemi risalire Oh, mica quel grano C'è un altro kraken qua eh Oh, c'è un altro kraken No, porco dio no! Pensavo se ne fosse andato! Aiutatemi! Ma si! L'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto! Dio santissimo Facciamo qualcosa? Quasi quasi Ha preso danno, ma anche noi Ha preso danno, ma anche noi Anche noi abbiamo preso danno, effettivamente Siamo come la stessa entità Maledetto In questo modo Ti ferirai anche te Ho notato, infatti Ho notato Allora, dobbiamo stare molto attenti, vieni Lo addomestichiamo Andiamo a cercare della selfie Vicino Oh, c'è uno scheletro eh Occhio! No, ti tiro! Quindi? Eh, questo è un bel problema Tanto il drago Dove che stava il nome? Di qua, vero? Tobacolosissima Oh! Io non ti faccio niente se tu non mi fai niente, ok? Non mi sembra convincente questo patto No, troppo Ciao Ciao Si butta nella lava Si fa ammazzare per darti i livelli La... L'amico loco è qui L'amico loco è così Alla voce di un quarantenne Ma c'ha solo sedici anni Sedici anni di una pagina Perché? Lui è l'amico loco Nooo Che stai dicendo? Gianco Estremo Che... Menziona nelle storie Un plebeo come me Da folli Da folli Io non ci sto dentro Secondo me è completamente fake questa cosa Anche se l'ho appena vista Per me ti hanno creato l'account, ragazzi Oggi c'è... Oggi Seguito E condiviso Sui profili social di Twitch Italia Ma soprattutto condiviso Nelle storie di Instagram di Gianco Estremo Io... Voi non vi rendete conto della... Cioè... Gianco Maggiore Twitch Gianco Maggiore Twitch Italia, eh Ok Lo vedete? Allora... Io me ne creo qualcuno in più Come si dice? Ah... No... Ok... No... 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 Questa si... Nooo... Ok... Ho un po' di piccone di... Ferro No... Ma che è sto cosa? Vado... A farmare Davvero salvo No... 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 Dove sta morendo? Vabbè sono di cibo, me lo porti? Sono morto, sono morto, sono morto Ma galleggia! Sì, sì Trovo a tornare indietro Come hai fatto a rimorire? Eh, però su studio è lo spawn A meno che... Oddio! Che cos'è? Ho mezzo cuore e io... Ma che è sto coso? Senti questo? Bravo G-Taz, vai da esca Vai da esca Ma che cazzo sono pazzi? Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ho scelto una bestia all'allanta Ma che cazzo era questa? Non possiamo uscire la casa Giancocetti, hai capito? Ma cazzo... Allora l'idea è di fare... Una miniera... Con tipo dopo tutte le asci... Dio porco dentro casa vai no ma che arriva da sopra la montagna oddio va a mettere coglione patroia ma che cazzo è belfagor no ci ha paralizzati porco dio ma che buone di fuga andiamo ma scusate vai fermo che cazzo è che mi attacca quel comando è troppo p morning stuff serve un enderpearl un osso e uno di no avevo buttato il piccone cosa rire ma cazzo vai coglione dammi tutto fermo a me penso fosse record mondiale sincero taglia guarda staglia scusate mi devo andare a bere l'acqua ma chi è questo ma perchè ha la skin ma perchè ha la skin di george floyd no te lo giuro perchè uno si chiamava george floyd e aveva la sua skin uguale identica ti ho invitato no no la lana dovrei ammazzare le pecore no 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 ne sono due giuste giuste scusa non è un no scusa non provo non provo non provo non provo non provo che è successo ho sentito volare di tutto guarda la live guardala guardala l'ho vista l'ho vista l'ho vista si si così piace adesso rutto per il delfino un attimo madonna minchia raga ma che era